A culo patatota ragazzi per ritornati qua dal vostro alcirocco san preferito di quartiere Mi pare affreddato perchè c'ho un po' di covid Non ci facciamo mancare niente Siamo qui in un nuovissimo video di Clash Royale Che porto da un sacco di tempo E sono nell'ultima arena nella Lega Platino di Clash of Clans Vedete tristello sempre E no non scioppiamo perchè non abbiamo i sordi manco per cagà Figuramose per questi giochi di merda Ragazzi io ci gioco ma c'è sempre una morale nei miei video La morale è ragazzi non perdete tempo su questi giochi di merda Andate a farve la vita Capito che ritocollo Va bene cominciamo subito ragazzi Vi ricordo che io sono stato campione italiano Arrivato sul podio Usiamo la tattica cinghiale più goblin di merda Vedete lui ha meno cremosone di me Quindi mamma mia quanti goblin del cazzo Oh ma gli abbiamo fatto la torre Orco del dio Mamma mia siamo fortissimi Siamo fuori gli abbiamo fottutato Ma questo me sa che è un bot Vabbè ragazzi video col bot Video col botto Video col bot ragazzi Oddio Io lo sta a dubito Siamo fuori gli abbiamo fottuto Ah ma tu Ma tu sei fortissimo Tu sei fortissimo Vabbè no Eh lui è fortissimo Ma ci ha detto che è fortissimo Ma noi siamo più forti Perché il potere dell'amifizia E dei miei iscritti che sono Ehm Eh però porco dio Io devo star di lui Cioè non posso rimanere Fai cazzi tua Che cazzo Oddio porco Ehm vabbè Ehm Il nostro Kandet bombarono Oddio Io ci avrei sperato Azzurro Vai Mamma mia Mamma mia che giocata ragazzi Mamma mia che giocata ragazzi Non poteva capitare Un Un L'avversario migliore Per poter fare un video Non poteva capitare Un avversario migliore Oh Me fai mettere la principezza Madonna Madonna Allora Io beh devo pure allenarmi quando usci Perché Questo è il 2 anno 9 Oh ma io c'ho l'elisire al massimo Ragazzi Ehm Ma che cazzo Ma che cazzo Ma che cazzo Senti Senti il forte Senti il forte Senti il forte C'è questo Che è detto John Fitzgerald Che è detto Questo è il presidente degli Stati Uniti Probabilmente Un cicciolo Che sta davanti Al 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 Telefonire Porco Dio Ragazzi Se va tutto bene Questa partita Ce la portiamo a casa Grazie A Il mio 2 lauree In Glitch Su GTA A proposito Di glitch Su GTA Ragazzi Iscrivetevi A questo canale di Berna Perché Io ho questo glitch Importantissimo Che in pochi Sanno Il mio 2 lauree Con la community Italiana Di Di GTA Quindi se vi iscrivete Oltre Avete visto Avete visto C'è perché io O dopo C'è Vabbè Vabbè ragazzi Va bene Ragazzi È stato un piacere Questo video È durato Più di troppo E Ci vediamo Alla prostata